Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Se siete di nuovo iscritti, grazie di cuore per aver scelto di entrare a far parte di questa bellissima community. Se invece è capitati di qui per la prima volta, mi presento, mi chiamo Ambra, sono una make-up artist e qui sul mio canale YouTube mi vedrete parlare a dismisura di make-up e benessere e soprattutto proclamare il self-love. Nel video di oggi andremo a sfatare 5 credenze sul make-up. Come un po' in tutte le cose, anche nel mondo dei make-up ci sono i miti e le leggende che narrano determinate convinzioni in quanto di make-up e talvolta ci sono delle credenze che sono errate. Prima di iniziare il video vi ricordo, se volete supportarmi, che il modo migliore per farlo è iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati. Ma iniziamo subito con la nostra prima credenza. Indossare il make-up tutti i giorni rovina la pelle? Assolutamente no! Indossare il make-up tutti i giorni non rovina la pelle. Prendetevi cura della vostra pelle, struccatevi prima di andare a dormire, fate una buona skincare e utilizzate cosmetici di qualità e vedrete che non ci sarà alcun rischio per la vostra pelle. Alcune persone sono convinte che il make-up indossato tutti i giorni possa creare l'acne. C'è questa convinzione ma in realtà è totalmente errata perché il make-up non è la causa dell'acne. L'acne è una problematica che nasce da intolleranze alimentari, da problematiche di tipo ormonale e il make-up non è una di queste cause. Quello che posso dirvi è che se qualche prodotto, qualche fondotinta, qualche correttore, qualche primer, notate che tende a farvi uscire dei brufoletti, vuol dire che quel prodotto non va bene per la vostra pelle. È capitato anche a me con alcuni fondotinta e li ho eliminati. Io mi trucco tutti i giorni e tutti i giorni applico un correttore, un primer, un fondotinta, una BB cream e quando mi vengono fuori dei brufolazzi, come mi è successo, vuol dire che ho delle variazioni ormonali in corso causa ciclo o vuol dire che mi sono mangiata in Nutella Biscuit sul divano. Ovviamente se avete una pelle problematica consultate un dermatologo, fatevi seguire. Ovviamente è molto importante che voi vi strucchiate bene prima di andare a letto. Se riuscite a fare una doppia detersione, ancora meglio. Non lasciate residui sulla vostra pelle e vedrete che se vi prendete cura della vostra pelle il make-up non sarà sicuramente la causa della rovina della nostra pelle. Più prodotto uguale più coprenza. Assolutamente errato. Il segreto per ottenere una buona copertura delle imperfezioni è scegliere la giusta tonalità di prodotto che dobbiamo andare ad applicare in base alla discromia o all'imperfezione che dobbiamo andare a correggere. Molto spesso capita di incorrere nell'errore di andare a sovrapporre ad applicare troppo prodotto ma in questo modo otteniamo esattamente l'effetto opposto. Cioè anziché andare a correggere le nostre imperfezioni andiamo a metterle in risalto. Andiamo a mettere in risalto il fatto che abbiamo un brufolo, gli occhiai e perché? Perché andiamo a segnare maggiormente quella zona. Quindi in quel caso less is more direi che è veramente la soluzione migliore. Scegliete la giusta colorazione per andare a lavorare su quella discromia e il gioco è fatto. Anzi ne approfitto per porvi una domanda. Se vi può interessare un video dove vi spiego meglio come scegliere la giusta colorazione di fondotinta dato che è una domanda che ricevo anche abbastanza spesso fatemelo sapere qui sotto nei commenti così almeno posso fare un video per aiutarvi a scegliere il fondotinta magari anche online o insomma anche negozio per i vostri prossimi acquisti. Prima le creme e poi le polveri. Questa non è una credenza né giusta né sbagliata però diciamo che è una regola nel make up che si è sempre conosciuta e onestamente io non sopporto le regole anzi credo che le cose migliori nel make up vengono fuori almeno per quella che è la mia esperienza proprio quando esci fuori da quelle regole e quello che posso dirvi è che io mi sono appassionata tantissimo alla stratificazione della crema sopra la polvere. Ovviamente se voi dovete applicare il correttore e poi la cipria vi dico applicate prima il correttore e poi la cipra e non prima la cipra e poi il correttore però ad esempio nel caso del blush una delle tecniche che io ho più amato quest'anno e anche l'anno precedente è applicare il blush in polvere e poi successivamente sopra un blush in crema questo vi dà un effetto di tridimensionalità alle guance pazzesco vi dà questo effetto sano, luminoso come applicare un illuminante in crema sugli zigomi anche dopo aver settato la base dà un effetto più fresco al look ovviamente bisogna trovare i prodotti giusti le creme giuste che lavorino bene sopra le polveri altrimenti si va a creare strato le polveri si vanno a separare poi al di sotto ma se trovate i prodotti giusti vi posso assicurare che l'effetto della crema sopra la polvere vi può svoltare totalmente il look il mascara si può allungare con il collirio no 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 e assolutamente no su questo sono tassativa perché il mascara è un prodotto che va applicato sui nostri occhi sui nostri occhi che dobbiamo assolutamente rispettare e dobbiamo applicare la formula così come senza andare ad alterarla aggiungendo altri prodotti come il collirio che non nasce per stare all'interno di un mascara se vedete che il vostro mascara ormai è arrivato al termine della sua esistenza semplicemente lo prendete e lo cestinate e ne acquistate uno nuovo se invece vedete che all'interno c'è ancora del prodotto ma questo prodotto è secco e pastoso quando andate a prelevare il mascara dovete andare a roteare in questo modo lo scovolino se voi prendete il mascara facendo questo movimento l'aria entra all'interno del mascara e il vostro mascara dopo un mese sarà da prendere e buttare la formula all'interno del mascara si addensa è vero però se con accortezza andate a prelevare il mascara togliendolo anche dai bordi dall'interno del del pack in questo modo vi posso assicurare che il mascara anche sei mesi vi dura tranquillamente poi ci sono quelle formule che si addensano più velocemente altre di meno però in sostanza questo è il mio consiglio quindi ripetete insieme a me se il mascara si è asciugato noi lo prendiamo e lo cestiniamo la base va sempre incipriata credenza totalmente errata perché io nella stragrande maggioranza dei casi non vado quasi mai ad incipriare la mia base la cipria è un prodotto che va utilizzato con consapevolezza un prodotto che va a fissare e opacizzare la vostra base va utilizzata in maniera strategica, va utilizzata nelle zone che volete tenere sotto controllo se avete la pelle secca la cipria potrà andare ad enfatizzare quelle che sono le imperfezioni della vostra pelle quando avevo la pelle secca per me era assolutamente bandita perché l'effetto muro di cartongesso era assolutamente assicurato quindi cosa facevo in quei casi? andavo ad utilizzare uno spray fissante che va a tenermi il make up su per tutto il giorno senza andare ad asciugare la mia pelle perché la cipra è una polvere ed è un prodotto di per sé asciugante ovviamente se avete una pelle grassa potete andare a calcare un po' più la mano perché magari avete un'esigenza differente in generale la credenza di la base va incipriata sempre e comunque non è così la cipria la utilizzate se ne avete bisogno i cosmetici non hanno scadenza assolutamente, beh, errato i cosmetici hanno una scadenza e questa scadenza va assolutamente rispettata in ogni cosmetico c'è un'etichetta con un barattolino e all'interno c'è un numero che sta ad indicare il numero di mesi per cui la casa cosmetica ci garantisce che quella formula non andrà ad alterarsi purtroppo capita che le formule vadano ad alterarsi prima della data di scadenza e alcune capita che superata la data di scadenza le formule siano ancora buone il mio consiglio personalmente è quello di controllare sempre i prodotti prima di applicarli prendo il rossetto, lo applico sul palmo della mano se vedo che il pigmento si sta separando dal resto della formula vuol dire che quel prodotto è da eliminare se vedo invece che quella formula è ancora perfetta come quando l'avevo acquistato vuol dire che il prodotto è ancora valido per quella che è la mia esperienza ho notato che le creme hanno una durata nettamente inferiore rispetto alle polveri io ho palette con una durata di 24 mesi che invece ho da 4 anni che sono perfette che io tuttora utilizzo, non mi hanno creato sfoghi, allergie la formula dell'ombretto non è andata a seccarsi, ad asciugarsi quindi continuo ad utilizzarle stando sempre attenta e verificando che la cialda sia a posto con le creme invece ho notato che alla scadenza di quei mesi la formula comunque subisce delle alterazioni quindi noto proprio che va a separarsi noto che anche sul viso va a performare in modo differente quindi anche questo può aiutarvi a capire se è un prodotto potete ancora utilizzarlo o no bene raga il nostro video volge al termine io spero di essere stata chiara e spero che questo video possa esservi d'aiuto inoltre ho le vostre amiche e i vostri amici che hanno queste credenze in fatto di make up io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati alla conclusione di questo video se volete supportarmi vi ricordo che il modo migliore è per farlo iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanella io spero davvero tanto di rivedervi anche nel prossimo video e vi mando un grosso grossissimo bacio see you soon ciao 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 ciao